Ci sei solo tu? E io che temevo che il mio colpo potesse fallire a causa delle Super Hero Girls. Ma per mia fortuna, oggi c'è solo quella ottusa. Uh, un gioco? I gatti adorano giocare. Serino, devi raggiare il peso del mondo sulle tue spalle. Marte, Saturno, Giove, Nettuno e Urano. Plutone, è un pianeta o no? Ah, che importa! Un piano perfetto, mi faccio i complimenti da sola. Vedi, Super Girl, sapevo che questo gioiellino è il tuo punto debole. E sapevo che saresti intervenuta tu stasera. Sapevo che mi avresti sentito sfondare il lucernario. Sapevo che non avresti visto cosa c'era nella cassaforte rivestita di piombo e che eri l'unica abbastanza forte da farla a pezzi. In un certo senso noi siamo complici. Non trovi anche tu? Bene. Forza, arrestatemi. Così potrò pensare al mio piano di fuga. Come? Le Super Hero Girls? Mi stanno ricattando? Questo non è un ricatto. Ti stiamo solo obbligando a compiere un'azione contro la tua volontà. Tesoro, è assolutamente un ricatto. Lo adoro! Ci sto. D'accordo, sentite. Ecco il mio piano. Oh, guarda cosa c'è qui. Facciamola finita, io ho di meglio da fare. Cosa? Che sta succedendo?